A Bergamo si affrontano per la diciassettesima di Serie A l'Atalanta, padrona di casa, e la Fiorentina. Nerazzurri, che dopo il successo nel derby con il Cune, guardano con ottimismo la classifica. 5 punti di vantaggio sulla terz'ultima sono sicuramente un buon bruttino a questo punto della stagione per Mondoico. I viola sono invece a ridosso della zona UEFA con 19 punti e la vittoria interna di sette giorni fa contro l'Inter ha galvanizzato tutto l'ambiente di Oster. Mondoico schiera una squadra molto offensiva, con Stromberg, Nicolini e Madonna alle spalle di Canigia e dei Valeri. Difesa 3 per la viola, che schiera un centrocampo tutto muscolare, lasciando a Roby Baggio il compito di innescare D'Artissia. Nei primi minuti di gioco, le due squadre si studiano, cercando di capire dove colpire. La prima vera occasione è per i padroni di casa, con Nicolini, che si libera sulla fascia destra, ma trova solo le stabili della rete di difesa della luce. La risposta viola è affidata a D'Artissia, che lanciato in profondità da D'Artissia, calcia abbondantemente alto. Al ventesimo Canigia salta il tentativo di prestimo di Dunga e innesca Evahir, il brasiliano è freddo e lucido nell'incrociare il sinistro, con un tiro potente e preciso, che batte l'Anduncio. Poco prima della mezz'ora l'Atalanta vicina il raddoppio con Bonacini, con l'Anduncio in uscita fu dello specchio della palla. Finalmente si sveglia anche la Fiorentina e lo fa con Roby Baggio, sulla cui conclusione Ferron è strapitoso nel deviare in calcio d'angolo, negando così il pareggio alla viola. A seguito della battuta del corner, la palla arriva a Kubik, che tiene. Ferron si oppone in qualche modo, prima che arrivi Progno, a spazzare via la sfera. Atalanta pericolosissima in contropiede al quarantesimo, con Nicolini che impegna l'Anducci con un bel raso terra dei 18 metri. Al quaranticinquesimo Madonna scappa via faccenda e si presenta tu per tu con l'Anducci, che viene beffato dal tocco del giocatore nero-azzurro, che fa così 2-0. La Fiorentina accusa il colpo e fatica di inizio di presa ad organizzare una reazione degna di tale nuova. Al cinquantaduesimo, l'Anducci si salva, anche con parecchia fortuna, su Nicolini. Al sessantaseiesimo Evair tenta di chiudere anzitempo la gara dalla distanza. L'Anducci tiene la Fiorentina ancora via. Gli Orobici rallintano il ritmo e gli ospiti cercano a me di accorciare le distanze. Buso, sull'entrata di Chiara, costringe in angolo Ferron. Forse inviola intorno al settantacinquesimo, con Dunga che riesce a calciare in porta. Ferron è ancora una volta insuperabile. A dieci minuti dalla fine, Nicolini si beve in velocità Battistini, ma coglie al solo il palo esterno. Ultima occasione della gara all'ottantoduesimo. Fiorentina è anche un po' sfortunata, con Nertise, che servito da Kubik, colpisce il palo interno. I toscani escono quindi sconfitti a testa bassa dal comunale di Bergamo, vittime di un'eccellente Atalanta, che aggiunge così altre due punti alla sua già buona classifica. Tra i singoli eccellente prestazioni di Nicolini e di Ferron, che ha sempre chiuso tutti gli attacchi fiorentini. Male invece Baggio, mai nel vivo del gioco, è sempre anticipato dalla difesa nerazzurra. Azzurra 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 Azzurra